Ciao ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio, buonasera, bentrovati e bentornati sul canale. Video velocissimo oggi, piccolo video haul che sono passata da Erbolario, perché ho visto un video di Elisabetta R, Eli, che mi ha ispirato, ha fatto vedere degli articoli nuovi nuovi che sono usciti adesso, quindi dovevo andare per fare un'altra commissione nel centro commerciale dove c'è anche Erbolario e ne ho approfittato. E in più ho trovato una chicca che non avevo visto ancora da nessuna parte, magari voi lo conoscete già, ma ve la faccio vedere. Poi ho comprato due profumi, una cosa velocissima per tenervi in compagnia a pochissimo tempo, ma soprattutto perché secondo me sono delle ottimissime, bellissime idee di regalo per Natale e mi dicevano appunto le due commesse gentilissime dell'Erbolario, del centro commerciale delle Bele a Lecco, quindi per chi è di Lecco sappiate il negozio di Erbolario che c'è lì, che praticamente questi articoli stanno andando a ruba e stavano già finendo, perché sono appena arrivati, online al momento non sono disponibili e nei negozi stanno già sparendo, sono usciti da poco, ma insomma la gente si è fiondata ad acquistarli. Allora vi faccio vedere la chicca che ho trovato io, avete visto ho rifatto, mi hanno aggiustato il colore ed è questo, è proprio quello che volevo, mi piace un sacco e così lo tengo, questo sarà il colore originale della Ely. Allora, cosa ho trovato di Bello? Non è mio, ho portato Lucia con me e ha scovato il calendario dell'Avvento, ovviamente non lo apriremo adesso, il calendario dell'Avvento si apre in Avvento, e quindi di giorno in giorno vi faremo vedere con dei piccoli video, ho il tempo per imparare a usare i short video, perché io non sono capace di farli, ma vi faremo vedere cosa c'è in questo calendario, se poi ne troviamo degli altri ad un prezzo contenuto vi mostreremo anche quelli. Questo l'ho regalato a Lucia per Santa Lucia che è il 13 di dicembre, è un regalo anticipato, e lei ama queste cose, dunque si apre così, faccio vedere così, vedete, con tutte le caselline, spero si veda, ci sono tutte le caselline, dentro ci sono tutte delle mini taglie dei prodotti erbolario, tra cui anche quello che io ho acquistato oggi, quindi il profumo al melograno da 5 ml, poi c'è la collana bijou, che c'è nel kit, la crema corpo al cocco, vaniglia crema per le mani, rosa purpura crema profumata per il corpo, ginepro nero shampoo doccia energizzante, foglie di tè crema corpo e mani, tutte da 15 o 20 ml, melograno sapone profumato da 25 grammi, acido ialuronico luce e volume shampoo effetto filler da 20 ml, acido ialuronico luce e volume crema balsamo effetto filler, sempre da 20 ml, vitamina c e oro 24 carati poteri anti età, penso che alla luce non serva, da 5 grammi, altea crema scrub pelle di seta da 20 ml, frangipane profumo, ah anche questo, da 5 ml, frangipane bijou, bellissimo, quindi se lo volete regalare ci sono dentro le novità che ci sono qua, stupendo, così ne avremo 4, vitamina c e oro 24 carati poteri anti età, crema viso 24 ore da 5 ml, assenzio crema per le mani alle 3 artemisie da 10 ml, crema viso nutriente al carité da 5 ml, cedro di calabria shampoo doccia solido, ah interessante, da 15 grammi, altea crema per il corpo vellutante da 15 ml, bucchè d'argento profumatore per automobile, questo sarà mio perché guido io l'unica macchina presente in casa, per automobile con foglia da 10 ml, ecco questo è il contenuto, penso di non aver fatto nessuno spoiler perché comunque lo trovate in tutti i negozi della catena erbolario, mi sembra veramente molto carino, con delle chicche molto 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 belle, e il prezzo di questo calendario è 50 euro, e Lucia se l'è aggiudicato per Santa Lucia, che è la nostra santa preferita, poi, le due meraviglie, che ho visto da Elisabetta e che ringrazio perché lei è sempre avanti, sa sempre e conosce le novità, le scopre, le condivide con noi, e io la ringrazio tantissimo perché è una donna che stimo molto, e che apprezzo, per la qualità dei suoi video, per quello che ci racconta, per come si presenta, e quindi, se non la conoscete, cosa che penso sia impossibile, andatela a conoscere, poi vi metto sotto il riferimento, allora, il primo che mi ha conquistato il cuore, è questo kit, che si chiama Beauty Box, sempre con te, profumo e con lana bijou, al melograno, si presenta in un cofanetto, molto carino, così, uno specchia, giusto, perfetto, poi voi aprite, e avete al vostro interno una meraviglia, quindi, io vi dico veramente, adesso siccome li ho visti, viene anche dal vero, ritornerò, spero, questa settimana, perché dopo vi racconto cosa mi succede in questa settimana, in questo fine settimana, perché la Ely va sempre, e, avete, questa meravigliosa scatoletta di latta, che quando l'ho vista da Elisabetta, me ne sono innamorata, cosa c'è dentro questa scatoletta, guardate che presentazione, è meraviglioso, specchia, sì, porca miseria, è che qua c'è la luce, della Ring Light, comunque, è bellissima, con questo profumo, da, aspetta, 10 ml, che è elegantissimo, e questo mi è piaciuto tantissimo, adesso non vi do la recensione, proprio così, è molto, istantanea, c'è questo profumo di melograno, che io lo sento tantissimo, e poi ci sono dei frutti rossi, perché è molto frizzante, è frizzantissimo, ed è secondo me, un profumo perfetto da mettere, proprio per iniziare, questo autunno, guardate che meraviglia, e poi, che è la cosa che mi ha colpito di più, quando l'ho vista, all'interno c'è, in questo sacchettino, di organza, color melograno, questo ciondolo, che, vi ricordo il ciondolo, che aveva il mio papà, con la foto del suo fratello, al collo, perché il suo fratello, era venuto a mancare appena nato, e quindi, che ricorda molto, il melograno, con questo chicco, che è mobile, scende, insomma, potete anche aggiungerci, degli altri charms, se vi piace questa, questa catena, o cambiarla, e all'interno, vediamo se riesco ad aprirlo, perché ho appena fatto le unghie, mi si spaccano, ce la faranno i nostri eroi, o magari, come si fa a aprire? Non ci sono le istruzioni ragazzi, eh sì, ciao, c'è la linguetta, ma ancora vedevo, sì, però io non riesco ad aprirlo lo stesso, facciamo che interrompiamo, apriamo il ciondolo, i nostri eroi ce l'hanno fatta, e hanno aperto il ciondolo, in questo ciondolo, c'è questa specie di spugnetta, dove voi spruzzate il vostro profumo, e ve lo mettete al collo, e così potete avere sempre con voi, la fragranza che preferite, e siccome io sono un'esosa, ho chiesto alle ragazze, di che materiale fosse fatto, l'abbiamo guardato, e ci sembra una specie di felt, di quello abbastanza grosso e resistente, loro mi hanno detto che si informeranno, se ci sono dei ricambi, però giustamente, anche loro mi hanno detto, va contro il nostro interesse, però essendo un pezzettino di stoffa, un pezzettino di felt, tu fai la misura, e poi ovviamente, ti cambi in base al colore che vuoi, in base al profumo che ci vuoi mettere, e ci metti la fragranza che ti piace, quindi è anche secondo me, un'idea molto molto carina, come regalo, e appunto si toglie, e poi dopo lo, cioè non si cambia, adesso non sto a toglierlo, perché appunto è nuovo, e lo voglio utilizzare così, però si può eventualmente, a nostro piacere, cambiare poi il dischetto, cambiando la fragranza, mi sembra davvero, un'idea molto molto carina, originale, davvero grazie Eli, per averne parlato sul canale, perché mi hai dato, un'idea di regalo, adesso io questi li ho comprati, per me, diciamocelo chiaramente, volevo regalarli, ma non li regalo, però sicuramente, ho due amiche, che sono appassionate di profumi, e di gioielli, e questo secondo me, è un ottimo regalo di Natale, adesso questo lo riponiamo, e, perfetto, dentro qui, molto 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 bello, e anche un regalo originale, oltre ad avere poi la scatolina, dove ci potete mettere, io pensavo di tenerla in borsetta, con dentro il muro cacao, il rossetto, o anche soltanto le biro, e le matite, per quando devo fare delle riunioni, mi piace davvero davvero tantissimo, molto molto elegante, molto molto bello, il secondo, il secondo kit novità, è questo, non è in una scatolina di metallo, ma è in una scatoletta così, e abbiamo, 15 ml del profumo al frangipane, allora, è un profumo molto molto dolce, a mio parere, tra i due preferisco sicuramente, quello al minograno, però, è un profumo molto avvolgente, un profumo adatto, a una stagione fresca, un profumo che definirei quasi da sciarpa, ovviamente mi deve piacere, una fragranza dolce, secondo me, io adesso non li ho provati, come persistenza, non li conosco, quindi a naso adesso, mi sembra che questo sia un pochino più persistente, di quello al minograno, però quello al minograno a me piace di più, però, qui dentro poi c'è il braccialetto, adesso questo non ve lo apro, sennò stiamo qui ancora altri 50 minuti, ok, con, sempre il ciondolino, e, la targhetta dell'erbolario, molto molto carino, vediamo se capisco come si fa a mettere, perché sono imbranata, ecco, e volendoci potete anche aggiungere, a me non dà fastidio quando lavoro al computer, perché le mani sono praticamente ferme sulla tastiera, e avete con voi il vostro profumo del cuore, il vostro profumo preferito, davvero, davvero, un'idea geniale, bravo, erbolario, veramente, e adesso, perché poi io ho visto delle altre cose che volevo provare, ho provato due profumi, volevo dei profumi autunnali, un po' diversi, da quelli che ho, erbolario comunque, ho 4 o 5 fragrante, già che sto usando, e mi piacciono tutte, e ho voluto provare, mi abbasso a prendere, le cosi due, sono sempre nella camera, ho voluto provare questi due, che francamente io non so se sono nuovi oppure no, io non seguo le novità dei profumi che escono, vado se mi piace, lo provo e lo prendo, questo, che è frutto della passione, a parte che adoro il colore, voi non lo vedete, ma è un pochino più chiaro, è un viola, frutto della passione, proprio come quello che c'è sulla scatola, ecco, la voltietta, poi probabilmente io, con la luce che mi batte contro, si vede un po' più scuro, ora adesso io li ho messi da qualche altra parte, però sentiamo, un profumo, frutto della passione sì, ma vediamo cosa ci dice, inno alle estate più rigogliose, secondo me è estivo, ma non troppo, ed è perfetto per fare i profumi dell'autunno, che parla di frutti agrodolci, fiori radiosi e fogliame verdissimo, ecco, fresco sì, ma non troppo fresco, non prettamente estivo, come altri profumi, che utilizzo soltanto d'estate, mi è piaciuto tantissimo, e io lo utilizzerò adesso, questa è la confezione, con il bellissimo disegno, molto molto bello, il kit costano mi pare sui 20 euro e 40, mi pare entrambi 20 euro e 40, e i profumi piccoli, 24 se non sbaglio, e l'altro che mi è piaciuto tantissimo, io amo la liquirizia, e ho preso legni fruttati, che ha liquirizia, i frutti maturi della pera, anche qua vi ripeto, non so se è un profumo estivo, non so se è nuovo, non ho chiesto niente, a me non interessa più di tanto questa cosa, se è un profumo mi piace, la prima cosa che sento, è la liquirizia, non la liquirizia, la caramella alla liquirizia, il bastone di liquirizia, che sganiavamo da bambini, buonissimo, poi sicuramente come prima apertura, la nota della liquirizia, e poi la pera, ma io ci sento tantissimo la liquirizia, ed infatti l'ho comprato per questo, perché mi piace davvero davvero tantissimo, ecco, questi sono stati i miei acquisti, poi mi hanno fatto degli omaggi, perché sono stati veramente carini, e mi hanno regalato, vediamo fuori tutto, perché sono qua, vuole, allora, mi hanno regalato, questa, crema da 100 ml, quindi, quasi una full size, o comunque, una taglia molto grossa, taglia molto grossa, taglio di carne, di, dopo sole rinfrescante, con estratti di menta acquatica e cetriolo, questo, ha un pao di 12 mesi, ma noi lo apriremo l'anno prossimo, e quindi, è stato un regalo molto gradito, e poi, i colori dell'orto, crema viso dissetante, ecco, dei colori dell'orto, avevo già provato qualche prodotto, e mi era piaciuto tantissimo, e questa è una crema viso, che proverò, poi, un bagno gel al melograno, anzi, scusami, no, giusto, bagno gel al melograno, e un balsamo gel per il corpo, sempre al melograno, poi, carezza profumata, crema fluida per il corpo, al frangipani, e, oh mamma, e il bagno gel al frangipani, e poi, due kit, sapete che loro regalano sempre questi, sono molto carini questi kit, che hanno dentro, un po' di prodottini, della, da provare, quindi questo, è ancora, ha il profumo al frangipani, che ce l'abbiamo, poi abbiamo, la crema corpo e mani, un'altra crema profumata, per il corpo, e un gel detergenti, viso e mani, e nell'altra, vediamo cosa c'è, tutto frangipane, è un kit al frangipane, il bagno gel, il profumo, questi li userò sicuramente io, perché Lucia non li usa, un balsamo mani, e un'altra crema profumata, per il corpo, così riesco anche a farmene un'idea, perché ne ho, tre o quattro confezioni, bene ragazzi, spero di avervi dato, qualche ideuzza, di esservi stata, di ispirazione, come lo è sempre, Elisabetta R, per me, e non finirò mai, di ringraziarle, sono contentissima, di averla scoperta, sul tubo, perché, lei è sempre molto innovativa, trova un sacco di idee, un sacco di chicche, un sacco di perle, le condivide con noi, e noi possiamo, tranquillamente, in libertà, scegliere, quello che vogliamo prendere, e andare a vedere, un po', quello che lei, ci mostra, e ci consiglia, il calendario dell'avvento, l'avete visto, ve lo faccio rivedere ancora, secondo me, è davvero, molto, 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 molto carino, 50 euro, ma ci sono un sacco di produttini, poi ci sono i due bijoux, poi c'è il profumino, da 5 ml, nelle due versioni, che ho acquistato, quindi, secondo me, anche questo, potrebbe essere, se avete qualcuno, da festeggiare, come abbiamo noi, la Lucia, Santa Lucia, un ottimo, regalo, per iniziare l'avvento, e prepararci così, al Natale, io vi ringrazio, vi saluto, e, ah ecco, volevo dirvi appunto, ci vediamo, poi settimana prossima, perché nel weekend, saremo impegnati, nella nostra città, ci sono le missioni cittadine, ci hanno chiesto, di ospitare, un seminarista, abbiamo accettato, molto volentieri, speriamo che lui, si renda conto, in che famiglia sia capitato, perché non sarà, la casa in ordine, non ci sarà, la casa senza polvere, andiamo avanti e indietro, però siamo contenti, di fare questa esperienza, di condivisione di vita, con un ragazzo, che ha fatto, una scelta di vita, di dedicarsi, appunto, a una parrocchia, o comunque, di dedicarsi al Signore, e di questo, ne siamo molto contenti, noi abbiamo il fratello di Paolo, che è un sacerdote, c'era lo zio di Paolo, che era un sacerdote, e c'è un mio cugino, che è come se fosse il mio fratello, che è un sacerdote, quindi siamo circondati, da questa aurea, gioiosa, di fede, non è una, ce lo dico ridendo, ma non è una battuta, siamo molto contenti, e siamo veramente, molto contenti, di fare questa esperienza, sono un po' in agitazione, perché appunto, una persona nuova, che non conosciamo, che si introduce nella nostra famiglia, loro hanno fatto richiesta, sono 40 seminaristi, del seminario diocesano, hanno fatto richiesta, di andare in famiglie, dove ci sono dei ragazzi, adolescenti e giovani, per conoscere appunto, la realtà, di questi ragazzi, e noi abbiamo la fortuna, di avere Lucia, ma anche Mattia, che non lavora in questa settimana, in ferie, e quindi potrà anche lui, conoscere questo ragazzo, e potremo conoscere un po', come è nata la sua vocazione, però ci sarà tutto appunto, una preparazione cittadina, ci sarà la cena in comune, in parrocchia, ci saranno varie iniziative, a cui noi dovremo partecipare, quindi sicuramente, nel fine settimana, non riuscirò a registrare niente, ma ci tenevo a mostrarvi, queste piccole novità, queste piccole chicche, che ho scoperto un po' da sola, ma anche grazie, alla mia amica Elisabetta, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata, stasera andrò per la prima volta, a partecipare a un gruppo di lettura, cittadino, nella mia biblioteca, è la prima volta che lo fanno, sono emozionata, sono contentissima, perché era da anni, che volevo fare un'esperienza del genere, finalmente sono riusciti a creare, qualche gruppo, e stasera comincia il mio gruppo, poi vi racconterò sicuramente, nel prossimo video dedicato ai libri, come è andata la serata, vi abbraccio, vi saluto, tanti bacioni, e a presto, ciao e grazie.